Come abbiamo messo la palla dentro? Come abbiamo messo la nostra metà campo e loro là sono stati bravi a crearci qualche difficoltà che magari il mio difensore per strutture diverse, per velocità diverse, magari temporeggiava un po' mentre doveva andare un po' più forte. Sempre valutiamo quello che facciamo, se vince o non si vince, è normale che noi da queste due partite in casa ci aspettavamo molto di più e non è arrivata e su questo sicuramente dobbiamo riflettere sotto tutti i punti di vista. Sentite addosso la pressione del dover vincere a tutti i costi? La pressione è il nostro lavoro, la pressione è relativa. È normale che giocare in uno stadio come Catania ci sono delle aspettative diverse e quindi per quanto mi riguarda sicuramente no. Mi sembra che abbiamo dei giocatori che hanno giocato in B, che hanno tante partite in Lega Pro, magari ci può essere qualche giovane che questa pressione la può sentire, però noi sappiamo che è il nostro lavoro e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio e sappiamo che in maglietta indossiamo, che dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per ridare quel lustro da un punto di vista della classifica. Secondo me dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri perché a volte siamo un po' imprecisi, forse c'è un po' di frenesia che magari si vuole subito chiudere per fare gol e magari questa frenesia ci porta un attimino a sbagliare. Perché oggi due palle nette di Calille e Rossotto che siamo davanti alla porta l'abbiamo sbagliato. Se ci sono dei cambiamenti non lo so, abbiamo tre giorni per preparare la partita e quindi valuteremo in questi tre giorni quali possono essere le soluzioni.